Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Eleonora Giorgi, l'attrice italiana famosa per i suoi ruoli sul grande schermo, si trova attualmente ad affrontare una dura battaglia contro un tumore al pancreas. Dopo un intervento chirurgico lo scorso marzo, Eleonora ha iniziato un percorso di chemioterapia nella speranza di sconfiggere la malattia. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Eleonora Giorgi ha parlato apertamente della sua lotta contro il cancro e delle aspettative di vita che i medici le hanno comunicato. Non nasconde la sua paura più grande, che non è tanto la malattia in sé, ma il dolore che la sua morte potrebbe causare ai suoi cari. La Giorgi ha rivelato di aver chiesto ai medici quanto tempo le rimane da vivere, ricevendo una risposta che non lascia spazio a certezze. Potrebbero essere sei mesi, cinque anni o anche più. Nonostante la gravità della situazione, Eleonora ha mantenuto un atteggiamento coraggioso e determinato, affrontando la realtà con lucidità e forza d'animo. Guardando al futuro con speranza, Eleonora Giorgi ha condiviso i suoi desideri riguardo all'aldilà, sognando di poter rincontrare persone care che hanno segnato la sua vita. Tra queste, la nonna Kat, l'ex fidanzato Alessandro Momo, il padre del suo primogenito Angelo e la celebre scrittrice Oriana Fallaci. Nonostante la difficile situazione che sta affrontando, Eleonora Giorgi si mostra determinata a combattere fino in fondo, con la speranza di poter superare questa prova e continuare a vivere.